Un monaco tibetano di nome Tensin de Lek Rimpche è rinchiuso in una prigione della provincia cinese di Sichuan da più di sette anni. È stato accusato di essere il responsabile di alcuni attentati avvenuti a Chengdu nel 2002, ma lui nega le accuse. All'inizio di questo mese centinaia di tibetani si sono ritrovati vicino a Chengdu per protestare, chiedendo un nuovo processo. Affermano che è stato condannato senza alcuna prova. Diversi resoconti informano però che almeno 90 manifestanti sono stati picchiati e arrestati. Tra i giovani tibetani che sono arrivati per primi e che sono stati arrestati e picchiati, molti sono già stati rilasciati, ma una ventina sono ancora in carcere. Il lavoro di Rimpche lo ha portato a costruire sette monasteri e delle case per gli orfani. È stato anche un ambientalista molto attivo. I suoi sostenitori ritengono che il partito comunista cinese ha iniziato a tenerlo sotto controllo per le sue numerose attività nella comunità. Le accuse sono completamente false e sono state solo una scusa. Una scusa per imprigionare questo uomo innocente che stava diventando sempre più potente e influente a causa delle sue buone attività. Rimpche è stato arrestato nell'aprile 2002 dopo una serie di esplosioni avvenute a Chengdu. Con un processo a porte chiuse è stato condannato a morte. Ma in seguito alle proteste internazionali ha ottenuto una sospensione della pena capitale per due anni, poi tramutata in ergastolo. Rimpche ha sempre protestato la sua innocenza. Chiediamo il rilascio immediato di Tienzin de lai Krenpochi perché non ha mai fatto nulla di sbagliato. Non ha ucciso nessuno ed è completamente innocente. Penso che lo sappiamo noi tanto quanto il governo cinese. Il caso di Rimpche ha ottenuto il sostegno internazionale. Sia il Parlamento europeo che il Senato americano hanno provato risoluzioni che ne chiedono un rilascio.